Una tessera della biblioteca per ogni nato che nasce, così Capaccio Pestum aspettando l'ormai prossima apertura della biblioteca Erika a Piazza Santini, si prepara ad accogliere i nuovi nati della città. Ogni tessera denominata Erika Arda sarà consegnata ai genitori nel momento in cui si recheranno all'ufficio anagrafe per registrare il figlio appena nato, insieme a un libretto su cui annotare, crescendo, i libri letti. La cultura è fondamentale per il pieno sviluppo di una comunità, spiega il sindaco Alfieri. Per questo le stiamo conferendo un ruolo centrale nella nostra azione amministrativa. Accogliere ogni neonato donandogli una tessera della biblioteca comunale è un gesto simbolico. Il messaggio che insieme alla card vogliamo consegnare è chiaro. La lettura, l'educazione, l'istruzione e più in generale la cultura sono gli strumenti che più di ogni altra cosa offrono a ogni individuo l'opportunità di una vita più consapevole e di un futuro migliore. A Capaccio Pestumo vogliamo seminare cultura. Consegnare ai neo genitori la tessera della biblioteca a Erika per il figlio appena nato è un modo per prendersi cura di ogni nostro nuovo concittadino, dichiara Maria Antonietta Di Filippo, vice sindaca e assessore alla cultura. Per crescere bella e rigogliosa ogni rosa, non a caso simbolo del nostro piano cultura, va innaffiata e curata, così ogni bambino. È per questo che come amministrazione vogliamo accompagnare i più piccoli nel percorso di crescita ed educazione, mettendo a disposizione di ogni bimbo e delle loro famiglie gli strumenti necessari, incluso uno spazio destinato ai bambini all'interno della biblioteca.